Dopo due anni aggrovigliati dalle limitazioni della pandemia, anche l'esame di maturità è tornato ad una parvenza di normalità e tradizione. A cominciare dal tema di italiano che questa mattina ha fatto suonare la campanella sulla prima prova d'esame di Stato per 13.700 maturandi marchigiani. Il toto tracce della vigilia ha proposto argomenti papabili come iperconnessione, cambiamenti climatici e pandemia che hanno fatto capolino fra gli iscritti al pari del ritorno di leggi razziali e Shoah. Temi fra i quali è spuntata anche la musicofilia e le analisi del testo che hanno riguardato Verga e Pascoli. Ecco preferenze e sensazioni di alcuni studenti pesaresi raccolte all'uscita dal campus. Ho scelto l'ultima proposta, la proposta C2, che tratta dell'iperconnessione come tema principale dei social. Ho scelto la proposta B3 ed era quello basato sull'inquinamento. Il B2, tipologia B2, sulla musica. C2, era una traccia sulle cose del web solide che mettono, c'era sempre una ogni tema, ho deciso di fare quella. Ho scelto il tema C2 che era sull'iperconnessione e sugli rischi dei social. Le tracce erano prevedibili secondo te? Allora, me ne aspettavo una su comunque questione digitale, me ne aspettavo. Poi guardando anche video online così mi aspettavo un Pascoli e per il resto no, le altre no, tipo sulla musica non me lo sarei mai aspettato. Sì, secondo me erano prevedibili soprattutto quella di Verga e quella sul Covid, dato che era l'anniversario di Verga e sul Covid vediamo da due anni appunto di pandemia. Emozionato per questo primo giorno? Allora, non emozionato però sono abbastanza rilassato perché alla fine è un semplice esame, è un fine di un percorso che si può fare quindi sono abbastanza tranquillo. Come ho detto gli altri ragazzi no, perché alla fine del tema, cioè in cinque anni io non ho mai stato per un tema perché è una cosa molto tranquilla, cioè vai, è una cosa molto di creatività. Per il tema ci si prepara o è stata una vigilia rilassata? Beh, no, tranquillissimo proprio, a casa, a dormire presto, si fa magari, si fa in giro, sono andato a portare fuori il cane ieri alla fine.